Direttamente dalla storica sala dei monopoli di Stato di Piazza Mastai in Roma, questa è l'estrazione di Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Super Enalotto. Oggi, sabato 9 giugno, il Jackpot ha raggiunto la cifra di 45.433.019 euro. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della Commissione di Controllo diamo ora il via all'estraccione del concorso numero 69. Inizia il mescolamento automatico delle sfere, stiamo per scoprire i 6 numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. È in arrivo il primo numero. E il primo numero estratto è il numero 13. Siamo al secondo numero. Con Super Enalotto si inizia già a vincere. E il secondo numero estratto è il numero 61. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 86. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 32. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. E il quinto numero estratto è il numero 41. È il momento di incrociare le dita, stiamo per completare la sestina vincente. E il sesto numero estratto di questa sera è il numero 51. Dopo i 6 numeri che assegnano al jackpot, passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero, insieme a 5 numeri della sestina vincente, potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. E il numero jolly di questa sera è il numero 42. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. 13, 61, 86, 32, 41, 51. Numero jolly 42. E ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre, sì, perché superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte. E premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna, pronti? Eccolo! Il numero superstar di questa sera è il numero 77. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 69 in ordine crescente. 13, 32, 41, 51, 61, 86. Numero jolly 42, numero superstar 77. L'estrazione di oggi sabato 9 giugno termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 45 milioni 400 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati, poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 69. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del super enalotto assegna 357.532 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 45 milioni 400 mila euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di super enalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 46 milioni 300 mila euro. E vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 6 e vincono 33.331 euro ciascuno. I 4 sono 539 e vincono 490 euro ciascuno. I 3 sono 18.134 e vincono 37 euro ciascuno. I 2 sono 293.700 e vincono 6 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 14.643 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 2 e vincono 49.068 euro ciascuno. I 3 stella sono 105 e vincono 3.716 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 1.742 stella. 10 euro ai 12.679 uno stella. E 5 euro ai 31.320 zero stella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 12 giugno. Giocheremo per un jackpot di 46.300.000 euro. Arrivederci. Grazie a tutti. Eurozie per la prossima. Da prossima. Grazie a tutti.